Buongiorno, parliamo ora di malattie reumatiche croniche in età fertile. Le malattie reumatiche croniche sono quelle con una durata superiore alle 6 settimane e possono essere suddivise in due gruppi, malattie infiammatorie e non infiammatorie. Le malattie reumatiche autoimmuni croniche sono caratterizzate da un'infiammazione sistemica in cui la risposta del sistema immunitario, normalmente deputata alla protezione del nostro corpo, diventa invece causa di danno e disfunzione degli organi che colpisce. Pur potendo interessare tutte le fasce d'età, colpiscono prevalentemente l'età adulta medioavanzata. Nella maggior parte dei casi interessano soggetti di sesso femminile. Pertanto, quando si manifestano in età fertile, la scelta del trattamento deve tener conto della compatibilità con una potenziale futura gravidanza. Le malattie reumatiche autoimmuni croniche si suddividono in due gruppi principali, le malattie infiammatorie articolari e le connettivite e vasculite sistemiche. Oggi parleremo di artrite reumatoide e spondilointeso artriti per quanto riguarda le patologie del primo gruppo e di lupus ritematoso sistemico, sclerosi sistemica e sindrome di Sjogren per il secondo gruppo. L'artrite reumatoide colpisce l'1-2% della popolazione mondiale, con un rapporto femmine-maschi di 4 a 1. L'età di esordio più frequente è tra i 40 e i 60 anni. La comparsa dei sintomi avviene spesso in modo graduale, nell'arco di settimane o mesi, e si caratterizza per rigidità articolare prolungata al mattino dopo in attività, dolore articolare alla pressione, al movimento o a volte anche dolore notturno, gonfiore articolare. Tipicamente l'artrite reumatoide interessa molte articolazioni, solitamente più di 5, con una distribuzione simmetrica. Le sedi più tipicamente colpite sono le piccole articolazioni di mani, piedi, i polsi, ma anche le grandi articolazioni, i rachidi e cervicali, possono essere colpiti. La diagnosi si basa sulla raccolta della storia del paziente, l'esamo obiettivo, sul riscontro di alterazioni degli esami di laboratorio, come l'aumento dei valori dell'infiammazione, la positività del fattore reumatoide degli anticorpi anticitrullina, sebbene esistano forme di artrite reumatoide seronegative. Sempre più frequente è il ricorso all'ecografia osteoarticolare, con metodica Power Doppler, che permette di dimostrare la presenza di infiammazione articolare ed eventualmente di erosioni, rispetto alla classica radiografia. È inoltre importante, sia in fase di diagnosi per la scelta del trattamento, sia nel corso del monitoraggio per valutare la risposta al trattamento, la valutazione dell'attività di malattia, mediante l'utilizzo di indicatori clinimetrici. L'altro gruppo di malattie infiammatorie articolari è quello delle spondiloartriti, che comprende un insieme di malattie tra loro correlate, che condividono alcune caratteristiche, tra cui l'infiammazione della colonna vertebrale e delle articolazioni periferiche. E a seconda del fatto che coinvolgano prevalentemente la colonna o le articolazioni, si suddividono in due gruppi, spondiloartriti periferiche e spondiloartriti assiali. Le spondiloartriti sono caratterizzate in prima istanza da un dolore al rachide, che viene definito di tipo infiammatorio, quando soddisfa almeno 4 dei seguenti criteri. L'esordio, in giovane età, solitamente sotto i 40 anni, anche se esistono delle eccezioni, la comparsa graduale dei sintomi, che migliorano con il movimento, mentre il dolore non migliora a riposo, il dolore è presente anche di notte, con tendenza a migliorare al risveglio. Inoltre possono essere presenti infiammazione delle articolazioni, dei punti di inserzione dei tendini e dei legamenti sull'osso, ovvero intesite, la presenza del dito salsicciotto, la cosiddetta dattilite, processi infiammatori oculari come l'uveite, la psoriasi o la familiarità per psoriasi, le malattie infiammatorie croniche dell'intestino, come Crohn e retocolitulcerosa, la buona risposta agli antinfiammatori, la familiarità per spondiloartrite, la positività dell'HLA-B27 e l'incremento della proteina ciriattiva. La spondilite anchilosante è la patologia che viene più frequentemente diagnosticata dopo l'artrite reumatoide con una prevalenza dello 0,1-0,2% e interessa tipicamente giovani maschi. L'artrite psoriasica è invece una malattia infiammatoria cronica articolare che interessa soprattutto persone affette da psoriasi cutaneo con familiari con psoriasi e colpisce entrambi i sessi in modo uguale, esordendo più frequentemente tra i 30 e i 50 anni. Nella maggior parte dei casi la manifestazione cutanea precede la comparsa dei sintomi articolari ma talvolta possono essere concomitanti oppure la psoriasi può seguire l'artrite. Essendo estremamente eterogenea la presentazione clinica, la scelta della terapia si basa sul tipo di coinvolgimento articolare e la presenza, come abbiamo visto, di manifestazioni extra-articolari. Nell'ambito delle connettiviti il lupus eritematoso sistemico rappresenta il paradigma della malattia autoimmune sistemica, ovvero una patologia che può colpire qualunque organo tessuto. Le ziopatogenese multifattoriali in quanti più fattori contribuiscono all'insorgenza della patologia, fattori genetici, ormonali, ambientali. È più frequente nelle popolazioni non caucasiche con una severità che può variare in rapporto all'itmia e colpisce più frequentemente donne in età riproduttiva, con un rapporto femmine-maschi che è di 13 a 1 nella fascia d'età tra i 15 e i 44 e si riduce nelle fasce estreme. La diagnosi si fonda sulla presentazione clinica che, come per tutte le connettivite, è estremamente eterogenea, potendo coinvolgere pressoché ogni organo apparato, sulla presenza di alterazioni agli esami di laboratorio, quali l'aumento della velocità di ritrosedimentazione e la positività degli anticorpi antinucleo, degli anticorpi anti-DNA, talvolta la positività degli anticorpi anti-ena, antifosfolipidi e la riduzione della frazione C3-C4 del complemento. La sclerosi sistemica è invece una malattia autoimmune sistemica caratterizzata da progressivo spessimento dell'acute e fibrosi degli organi interni che si traduce nel tempo e nella loro disfunzione. Ha una prevalenza di 7 variabile tra 7 e 20 casi per milione nella popolazione generale per anno con un'incidenza più alta nelle femmine rispetto ai maschi e un rapporto di 7 a 1 nelle fasce di tipo giovani che si attiene oltre i 50 anni. L'età media è desordio di circa 50 anni pur potendo coinvolgere anche donne in età fertile. In base all'estensione dell'impegno cutaneo si divide in una forma limitata se coinvolge le estremità e l'acute del volto, diffusa quando interessa anche le regioni prossimali del corpo, una forma più rara senza l'ispessimento dell'acute. I campanelli di allarme che devono suggerire la diagnosi di sclerosi sistemica sono la presenza del fenomeno di Reynaud in cui si ha una variazione di colore dal bianco al blu al rosso a livello delle estremità a seguito dell'esposizione alle basse temperature o in seguito a stimoli stressanti, la presenza di tumefazione delle dita con un spessimento dell'acute, la comparsa di teleangiectasia, a volte vere e proprie ulcere digitali, la comparsa di sintomi che possono suggerire un impegno d'organo. La diagnosi si basa sulla raccolta della storia del paziente, l'esame obiettivo, sulla ricerca degli anticorpi tipici e sull'esecuzione per i pazienti con feromino di Reynaud della videocapillaroscopia che permette di valutare le caratteristiche, le anomalie del letto capillare che possono assumere dei pattern specifici nei pazienti affetti da questa patologia. Importante sia in fase di diagnosi che per il monitoraggio è l'esecuzione delle prove di funzionalità respiratoria, l'attac torace ad alta risoluzione e l'ecodoppler cardiaco. La sindrome di Sjogren è invece una malattia autoimmune sistemica caratterizzata da infiammazione delle ghiandole esocrine con conseguente disfunzione e ipofunzione e comparsa di secchezza che interessa agli occhi, la bocca, la cute e le mucose. Possono inoltre manifestarsi ingrossamento delle ghiandole salivari, dei linfonodi, anomalie ematologiche, sintomi sistemici collegati al cointeressamento dei vari organi. Colpisce lo 0,5% della popolazione generale esordendo più frequentemente dopo i 40 anni e interessa più comunemente soggetti di sesso femminile. Inoltre può decorrere isolatamente come il sindrome di Sjogren primaria o associata ad altre patologie autoimmuni, tra cui l'artiteromatoide. La diagnosi si basa sull'anamnesi, l'esamo obiettivo, sull'esecuzione della visita oculistica con i test che documentino un'iposecrezione lacrimale, sulla misurazione della secrezione salivare, sul sempre più frequente ricorso all'ecografia delle ghiandole salivari che permette di dimostrare la presenza di alterazioni costrutturali tipiche. Inoltre possono essere ricercati gli anticorpi specifici della sindrome di Sjogren, gli anti-RO-SSA, anti-LA-SSB e il test più specifico rimane la biopsia delle ghiandole salivari minori. È fondamentale escludere altre malattie che possano causare una sindrome sicca oppure escludere che la causa della secchezza sia imputabile all'assunzione di determinate terapie. Il trattamento delle malattie reumatiche croniche in età fertile prevede l'utilizzo di vari farmaci che ovviamente differiscono in base alla patologia, al coinvolgimento o meno degli organi e alla severità. I farmaci più utilizzati sono i corticosteroidi, i farmaci anti-infiammatori non steroidei, gli analgesici per il controllo del dolore, i farmaci immunosuppressori o immunomodulanti che sono in grado di regolare la risposta del sistema immunitario e che comprendono sia i farmaci di fondo convenzionali che i farmaci biologici e le piccole molecole, i sostituti lacrimali sintomatici per la sindrome sicca, farmaci vasodilatatori per il fenomeno di Renault, farmaci per il trattamento dell'ipertensione polmonare. È inoltre fondamentale la modifica dello stile di vita. Si consiglia infatti un'attività fisica regolare che sia sempre adeguata alla patologia, allo stadio di malattia e alle eventuali comorbidità, il controllo del peso corporeo, avere un regime dietetico equilibrato, limitare il consumo di alcolici, abolire il fumo e soprattutto per le connettiviti la fotoprotezione. Grazie.